18 milioni di euro per promuovere le coproduzioni tra l'Italia e i paesi stranieri in ambito cinematografico e dell'audiovisivo. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha presentato oggi al Museo Massimo la seconda edizione del bando Lazio Cinema International. Il Lazio si conferma regione europea per sostegno all'industria dell'audiovisivo. In questi due anni e mezzo abbiamo individuato questo come uno dei pilastri delle politiche culturali e di sviluppo della nostra regione e i risultati si stanno vedendo. Aumentano le produzioni, aumentano le coproduzioni, aumenta il lavoro, aumenta la promozione del territorio. Dietro ogni film c'è il lavoro, ci sono stipendi, ci sono case produttive, ci sono aziende, c'è un indotto, ci sono i cinema e quindi è innanzitutto un valore aggiunto dal punto di vista economico finanziario e poi aiuta questo paese a essere più bello perché la produzione culturale porta con sé un qualcosa che forse il pil non fotografa ma che è un aumento del livello di civiltà di una comunità.